Allora, la domanda è, hanno costruito consapevolmente uno spauracchio, dicendo facciamo il minimo garantito perché non sappiamo se facendo qualche altra cosa possiamo peggiorare, nell'attesa del farmaco salvifico, perché tutto è stato costruito finalizzando all'attesa dell'arrivo della pallottola magica. Ho capito, ma la pallottola magica, mi scusi, la pallottola magica non è detto che ci poteva essere, non è detto che poi ci sia, perché non è che qui abbiamo degli dei che generano come Aladino il genio, voglio dire, di fronte a un qualcosa del quale nessuno sapeva nulla, come possiamo pensare, abbia pazienza, come possiamo pensare che arrivano i padri eterni e abbia pazienza? Prometeo incatenato, dove a un certo momento c'è Ercole che chiede a Prometeo, ma dice, come hai fatto a raggirare le persone in questo modo? E Prometeo risponde dicendo, ho suscitato in loro cieche speranze. Se voi ricordate quei mesi, tutti erano con il fiato sospeso in arrivo del vaccino, che li avrebbe liberati. E sappiamo oggi che il vaccino è arrivato, una somministrazione non è stata sufficiente. Poi ci hanno detto che con due saremmo stati coperti per almeno dieci anni. Poi ci hanno detto, ma no, poi bisognerà farne tre, poi alla fine bisognerà farne quattro ogni... E anzi oggi sappiamo che per farlo funzionare dovremmo in teoria farlo ogni tre mesi. Sappiamo in realtà che i limiti di questo vaccino sono notevolissimi, le conseguenze, gli eventi avversi, abbiamo scritto, abbiamo detto. Si è rivelato una gigantesca montatura, ma l'attesa, questa strategia del vaccino e vigile attesa, serviva ad una cosa fondamentale, ad alimentare la paura. Perché senza quella paura la gente non avrebbe obbedito a quell'insieme di norme idiote, di norme assurde, di norme contro non la scienza. Il buon senso, ma queste cose le aveva scritte Alessandro Manzoni. Alessandro Manzoni nel capitolo 36esimo dei Promessi Sposi, quando parla a proposito degli untori e Manzoni dice Ma non si può credere che ci sono uomini che vanno in giro e che vanno a ungere le porte per attaccare la peste. Sa cosa la risposta che si dà a Manzoni? Che il buon senso in certi momenti travagliati della storia si andava a nascondere per paura del senso comune. Perché in quei mesi c'era il senso comune veicolato dalle televisioni, c'era il senso comune veicolato da quegli scienziati che andavano in tv e dicevano Fate l'amore con le mascherine. Non specificavano dove le mascherine andavano messe, ma questo è un altro discorso. No, no, ma ne abbiamo sentite di cose anche molto comiche, drammatiche. Io persisto nel dire che questa cosa è continuata e continua. Non più tardi di 20 giorni fa due di questi personaggi D'accordo? Uno dei quali ha credibilità scientifica zero, perché ha un H-index di 14, non dico il nome, va bene. 20 giorni fa ha detto che avremmo avuto un milione di casi di Covid. Io li voglio vedere, posso citare Shakespeare, voglio la mia libra di carne. Un anno fa qualcun altro ha detto che ci sarebbe stata una recrudescenza di Covid in Cina e avremmo avuto 80 milioni di morti. Dove sono questi 80 milioni? La domanda cioè è, ma qualcuno, qualcuno dei suoi, cioè un giornalista, lei è un giornalista vero, ma fa eccessione. No, preciso, non iscritto all'ordine. Va bene, va bene, sarà punito. Ho detto questo. No, 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 è beh, articolo 21 della nostra Costituzione non prevede. Io invece devo essere iscritto all'ordine. Ora, voglio dire, ma qualcuno ha avuto il coraggio di questi giornalisti di andare da questi grandi esperti e dire ma scusa, tu hai fatto sempre previsioni errate, lasciamo perdere che sono catastrofici, le hanno chiamate Cassandre. Non è vero, Cassandre, visto che questi signori non studiano più l'Iliade, che era la sorella di Paride e di Ettore, era una che portava Iella probabilmente ma le previsioni le azzeccava tutte. Invece queste non sono Cassandre, questi sono pure degli incapaci oltre che degli tentatori. Ma molto, molto, molto. Ma qualcuno gliene deve chiedere conto.